17 maggio, buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna stampa del mattino, sono le 7 in diretta, buongiorno a tutti, allora partiamo dal santo del giorno poi andiamo a vedere il tempo, i giornali del lunedì con gli inserti sportivi, cominciamo dal santo, oggi è San Vittore Marti, il sole sorto alle 5.41, tramonterà alle 20.33 Andiamo su trebimeteo.com, questa è la situazione di oggi, lunedì 17, mattino, pomeriggio e sera nulla da segnalare, quindi particolare domani giornata di sole, guardate mattinata con sole praticamente su tutta la regione Marche, come fosse ad agosto, poi la giornata scivolerà via insomma, in questo modo, con un'anticipazione forse dell'estate, anche se poi le previsioni non sono per tutti uguali, l'Italia del nord sarà invece alle prese con il cattivo tempo allora adesso invece andiamo a vedere i giornali, cominciamo dal Corriere Adriatico edizione di Pesero, passe e richiami, nodo turismo, gruppi e pensionati, le prenotazioni devono fare i conti anche con chi aspetta la seconda dose, i dubbi degli albergatori che hanno soltanto una certezza, decisive le prossime due settimane, centropagina sede della Potes, carente, ispezione dei NAS, Marotta, Lasur, cerca un'altra sede e poi ancora, via della Robbia, il degrado in centro parte da lontano a Vallefoglia, scuola formativa e polo tecnologico, l'idea si concretizza Urbino, emorragia fatale, la famiglia decide di donare gli organi per le silicate si va al Tar, ma il comune non ci sarà invece il Carlino di Pesero con la fotonotizia, la sua lezione non muore mai dieci anni dalla scomparsa di Paolo Nonni, giornalista di razza poi Covid, stiamo uscendo dall'incubo, due terapie intensive chiuse pronto soccorso più libero, guarigioni in crescita, l'ottimismo di due primari clienti all'interno del ristorante, tavoli affollati al chiosco la polizia locale stanga tre locali, controlli all'anticontagio a Pesero multato anche un circolo, trova veleno per topi all'asilo, paura per un bimbo poi viene dimesso, sotto focolaio Almafano, nuovi tamponi che sono tutti negativi andiamo adesso nella pagina interna del Corriere Adriatico terza settimana in giallo e oggi la regione decide sui comuni ad alto rischio Acqualagni e Petriano fino a domani saranno in zona arancione rinforzata, c'è il confronto con il governo per modificare i parametri sui contagi, i ricoveri negli ospedali della regione continuano a diminuire in maniera costante e anche gli accessi ai vari pronto soccorso sono quasi azzerati tanto da infondere un cauto ottimismo sull'andamento del futuro a breve termine in pratica ci sono attualmente 47 marchigiani in rianimazione per la maggior parte a Marche Nord, 14 e a Torrette invece 11 i ricoveri ospedalieri sono però in continuo calo, come dicevamo 215 invece i nuovi casi positivi registrati ieri ma già da oggi il governo dovrà decidere se prorogare i divieti oppure riportare in giallo i due comuni ieri la situazione era di 60 positivi e 103 persone in quarantena ed è stata una domenica particolare con la decisione di rinviare per la seconda volta la celebrazione per le cresime per lo svolgimento dello screening antivirus per le classi della scuola primaria e secondaria che non sono sottoposte alla vigilanza Petriano invece ha effettuato il test alla popolazione scolastica il 10 di maggio ricordiamo sono questi due comuni Acqualagna e Petriano l'unica vittima del virus ieri è stata una signora di 82 anni con patologie pregresse originaria di recanati il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza scrive Maria Teresa Bianciardi è di 2.992 persone vaccini, Marche al terzo posto il 47,3% di cittadini è protetto subito via la fascia 50-59 anni Saltamartini dice per i caregiver percorsi ospedalieri ci vuole più tempo e quindi al momento le Marche si conquistano il terzo posto in Italia per vaccini anti-Covid ma c'è in pressing anche tutte quelle discoteche e le Marche di discoteche ne hanno inizia il pressing per un protocollo che serva per una riapertura in sicurezza oltre all'obbligatorietà del Green Pass quindi certificato vaccinale, tampone o attestato di guarigione è previsto anche l'uso di materiale monouso la tracciabilità attraverso l'acquisto di biglietti online la sanificazione dei locali insomma il 5 giugno l'associazione di categoria ha deciso di svolgere un esperimento in due discoteche diverse questa è una notizia più che altro nazionale una al chiuso, questi due esperimenti uno al chiuso, l'altro all'aperto per verificare le condizioni per la riapertura delle discoteche affinché avvenga il prima possibile la sperimentazione nel locale all'aperto si svolgerà a Gallipoli, al Praia dove 2000 persone entreranno soltanto col Green Pass e all'uscita i clienti del locale dovranno sottoporsi ad un nuovo tampone a Milano invece il test si svolgerà al Fabric discoteca che è al chiuso intanto restando a Milano quella fotografia dei tifosi dell'Inter tutti assembrati insomma a Milano al Piazza Duomo sono passate ormai due settimane e dunque da quella festa ormai siccome sono trascorse due settimane da quella festa dei tifosi in Azzurri, in Duomo per lo scudetto conquistato e a dispetto delle previsioni del più pessimistiche ad oggi non si registra alcun rialzo dei contagi da Covid-19 quindi tutto sommato possiamo dire che è andata bene intanto c'è la svolta la svolta per quanto riguarda il coprifuoco che potrebbe essere spostato a mezzanotte non certo domani sera parliamo di metà giugno probabilmente forse verso la fine di giugno qualcuno dice di spostarlo alle 23 ma addirittura si parla alle 24 ma forse anche di toglierlo del tutto ma ripeto stiamo parlando di qualcosa che potrebbe arrivare intorno al 24 di giugno se i dati continueranno a migliorare da lunedì 14 o al massimo da lunedì 21 giugno il coprifuoco potrebbe essere cancellato quindi o il 14 o lunedì 21 giugno potrebbe essere cancellato oppure andare intorno alle 24 ma io penso che verrà cancellato ma per i bar invece potrebbe essere consentito il servizio al banco da lunedì 24 per ristoranti e per i bar il servizio nelle sale interne rimarrebbe al primo giugno ma l'orario di chiusura non sarebbe più limitato alle 18 quindi qualche modifica anche per insomma tornare un po' alle vecchie abitudini soprattutto al bar ospedale questa è un'intervista che Roberto Damiani ha fatto a due primari il dottor Michele Tempesta e il dottor Umberto Gnudi siamo a Pesaro ebbene è un articolo che insomma fa tirare su un po' il morale perché parliamo di veramente luce in fondo al tunnel che questa volta si vede si vede bene anche se Pesaro dicono sta andando un po' più a rilento rispetto al resto della regione rispetto al resto dell'Italia ce lo stiamo dicendo da qualche giorno ma comunque ormai dice per esempio il dottor Gnudi eccolo qua dice è innegabile che anche Pesaro conoscerà nei prossimi giorni in maniera sempre più marcata la diminuzione dei positivi grazie alla campagna vaccinale io non ne vedo più di ottantenni che arrivano al pronto soccorso per covid trovo semmai giovanissimi addirittura bambini come mi è capitato qualche giorno fa in caso di sospetta intossicazione per una bimba di un anno e mezzo o due arrivata da un asilo tempesta invece dice il primario del reparto di rianimazione di San Salvatore ora abbiamo 14 ricoverati di cui 3 provenienti da fuori provincia mentre solo due mesi fa eravamo arrivati a 42 addirittura i giovani sono spariti anche gli anziani quelli ultraottantenni non ci sono più sono tutti vaccinati la percentuale di guarigione si aggira sul 75% io vedo per la prima volta da due anni a questa parte l'uscita dalla pandemia i risultati grazie alla vaccinazione non lasciano dubbi e poi altre cose che potrete leggere in queste interviste intanto continuano i controlli ristoranti in questo caso e bar a Pesaro e anche un circolo sono stati multati ma non sono stati chiusi nessuno dei locali è stato chiuso ma riceveranno una multa avevano clienti intenti a mangiare all'interno lo credo bene perché comunque purtroppo anche la sfortuna ci si è messa nel senso che non è pur essendo maggio non è per niente caldo il maltempo sta complicando le cose e quindi malgrado la violazione della norma anticovid la polizia locale ha inflitto la sanzione dei cinque giorni non ha inflitto scusate la sanzione dei cinque giorni di stop invece qua in breve Valeria Gasperini la vedete questa ragazza che ha conquistato la laurea con 110 lode Valeria Gasperini la prima laureata con 110 lode ad aver conquistato l'attestato di merito del Comune di Monbaroccio e relativo premio di 500 euro da investire nella propria crescita personale soddisfatto il sindaco Emanuele Petrucci andiamo adesso invece sulla pagina 4 lo diceva lo anticipava anzi il primario prima nell'articolo di prima bimbo trova e tocca veleno per topi all'asilo veleno per topi nel giardino dell'asilo Nido Mondogaio a Pantano siamo a Pesaro è un bimbo di due anni che ha preso la capsula del veleno in mano appoggiandola poi istentivamente come fanno i bambini di due anni alla bocca un educatore per fortuna lo ha visto e ha bloccato lo ha bloccato appena in tempo però sapete in quei momenti succede sempre che ma l'avrà messo non l'avrà messo cosa avrà quindi si va all'ospedale si va all'ospedale i bimbi sono rimasti hanno fatto tutti gli esami sangue e quant'altro non c'era nulla però c'è stata una sorpresa una bambina è stata trovata positiva al coronavirus così hanno fatto i tamponi anche a casa mamma lo stesso positiva tutti asintomatici tutti stavano comunque bene e qui c'è la storia che troverete sul giornale di questa mattina il resto del carlino oltre 900 vaccini Pfizer invece Ristò riprende il ritmo di un tempo una domenica intensa nel centro vaccinale la felicità di una coppia di ottantenni mentre muore e dona la vita e spianto multiorgano due equip del Sant'Orsola di Bologna e dell'ospedale regionale di Ancona Urbino per i prelievi la famiglia di un esercente di Urbania deceduto per emorragia cerebrale fa una scelta esemplare impegnata da tutto lo staff medico-infermieristico di reanimazione la vittima aveva 75 anni sotto invece un fermignenese di 18 anni tra i professionisti del calcio si chiama Ettore Arduini da 4 anni al Chievo di Verona e gioca nella primavera partito praticamente da ragazzino all'inizio racconta lui è stato difficile ho avuto il Covid ma non mi hanno lasciato solo la domenica vale un buon pasto i volontari ne distribuiscono 400 siamo su Fano iniziativa della Caritas diocesana a favore delle famiglie in difficoltà segnalate dalle parrocchie sotto il servizio ora e mensile diventerà quotidiano ad agosto quando la mensa dei poveri praticamente di San Paterniano chiuderà Potes spazi angusti e locali inadeguati a Marotta anche i NAS dei Carabinieri il direttore dell'area vasta dice abbiamo sistemato il sistemabile ora però cerchiamo a questo punto una nuova una nuova sede rischio contaminazione per i contagi di Covid andiamo adesso invece sull'altra pagina quella di Fano del resto del Carlino salviamo la nostra area verde passeggiata di una settimana di una settantina scusate di residenti di Poderino per prendere coscienza della nuova Interquartieri mentre sulla pagina andando un po' in giro sulle pagine dei giornali marchigiani da Fabriano questa ragazzina che era finita in coma etilico perché aveva bevuto troppo era sorretta dalle amiche ma non per per aiutarla indovinate per cosa per fare i selfie due amiche invece di chiamare i soccorsi la reggevano per farsi le foto da postare sui social però per fortuna una famiglia ha visto tutto ha capito la situazione è intervenuta e ha allertato il 118 invece a Macerata donna perseguita i vicini è stalking condominiale ma la cosa se vogliamo particolare è questa una coppia di Tolentino l'odissia di una coppia di Tolentino si è aggravata con il lockdown sputi alla porta e colpi di tosse senza mascherina costretti a traslocare cioè praticamente gli sputi la saliva e la tosse senza mascherina era un po' usata come un'arma come dire state attenti perché potrei contagiarvi e quindi rischiate poi di morire insomma pensate a che livelli ora a Senigallia il lungomare assediato dai giovani ubriachi folla e schiamazzi scatta l'allarme rosso una donna accerchiata temevano li filmasse con il cellulare il sindaco dice inaccettabile urgono i rimedi dunque centinaia di ragazzi ubriachi sabato pomeriggio ma parliamo di centinaia cioè non stiamo parlando di due persone due o tre persone parliamo di centinaia di ragazzi ubriachi sabato pomeriggio sul lungomare Lighieri di Senigallia dove una donna è stata cerchiata e insultata solo perché aveva il cellulare in mano temevano di essere stati filmati una situazione molto grave ha detto sbotta il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti lunedì mattina dice quindi oggi ne parlerò con il comandante della polizia locale per cercare insieme possibili rimedi perché questa situazione è inaccettabile tutto è accaduto appunto in questo tratto centrale di Via Dante Lighieri alle 17.30 quindi alle 5 e mezzo del pomeriggio e quindi ecco adesso bisognerà capire se questi veramente centinaia di ragazzi è un numero esagerato anche ubriacarsi insomma deve essere non deve essere stato semplice Addio Mariani invece la storica caposale di neurologia aveva 73 anni era la moglie dell'ex assessore Rebecchini mentre mentre sabato prossimo la rotonda di Senigallia apre al pubblico anche qui vedete sul resto del Carlino pagina 7 troppi giovani ubriachi e violenti Senigallia il caso sollevato dal consigliere Silvia Tomassoni già il pomeriggio la situazione è difficile lo sport con il Fano che non è messo bene soprattutto perché ha dei positivi al Covid c'è un focolaio all'interno del Fano Calcio Fano Imolese tutto sospeso ora tamponi a getto continuo continuano i controlli giocare la partita la partita di andata sabato 22 almeno per il momento è solo un'ipotesi mentre sulla VL VL di Pesero ora la palla passa in mano ai Beretta resta da capire infatti la volontà della famiglia sul capitolo Repesia cioè l'allenatore insomma adesso in questo momento è dall'altra parte dell'Adriatico lui è un croato e quindi è tornato a casa e la situazione viene descritta come delicata nel senso che tutto è appeso ad un filo mentre sullo sport sulla MotoGP Fenati decimo Rossi migliora ma è undicesimo Baldassari cade la rimonta sfuma Morbidelli e fuori dalla zona Punti e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa l'informazione torna stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia poi come sempre abbiamo gli appuntamenti delle 15 e delle 18 con il Rosario alle 15 in diretta da qui alle 18 un'altra tappa della maratona voluta dal Papa e poi dopo il telegiornale Riccardo ci dirà chi è l'ospite di Primo Cittadino Avremo il sindaco di Vallefoglia Palmirucchielli Bene, è tutto grazie per averci seguito buona giornata Grazie a tutti